Tanta gioia e allegria nel cielo di Ragusa Ibla dopo la chiusura della ventitresima edizione del festival dedicata agli artisti di strada provenienti da tutto il mondo, con un pubblico sempre numeroso e caloroso e pronto a lasciarsi coinvolgere nelle varie manifestazioni. Tutti elementi che riconfermano il festival Ibleo tra gli appuntamenti assolutamente di punta in Italia dedicata all'arte e circenza e non solo. Una grande festa quindi per tutta la città che ancora una volta ha accorto con entusiasmo gli ospiti, oltre alle migliaia di spettatori arrivati da tutta la Sicilia e anche oltre. Tantissimi anche turisti che hanno scelto l'ultimo fine settimana per soggiornare a Ibla, tutti ammaliati dalla bellezza, dalle suggestioni ispirate, dai luoghi trasformati in palchi naturali per le varie esibizioni, col focus di quest'anno è stato dedicato all'equilibrismo con artisti a dir poco straordinari. Grande novità di questa edizione è anche la riscoperta del borgo dei Cosentini che ha permesso di scoprire momenti della storia comune ormai finiti nel dimenticatoio, mentre come è noto la massima attenzione è stata rivolta quest'anno ai bambini, su tutti la mongolfiera costruita dai ragazzi e la Kids Circus Zone ai Giardini Blei con i laboratori dell'arte e circenza. Calate il sipario, se ne riparlerà adesso il prossimo anno.